Un laboratorio di formazione, progettazione e sperimentazione per creare la scuola modello a impatto zero e per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. E' il progetto a cui parteciperanno oltre 250 alunni di 11 classi dell'Istituto Tecnico Volta di Trieste. L'iniziativa di scuola sostenibile promossa da Siram e Barcolana dal 18 al 21 settembre permetterà ai ragazzi di applicare le misure incentivanti previste dal conto termico 2.0 al loro edificio scolastico. I progetti, spiegano gli organizzatori, dovranno presentare elementi innovativi all'avanguardia da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico e strutturale finalizzati a un nuovo concetto di edificio sostenibile e a basso impatto energetico. Una commissione tecnica composta da Siram e dagli insegnanti valuterà i lavori delle 11 classi mettendo in palio un bonus per l'acquisto di materiali e strumenti per la classe e sei progetti di alternanza scuola-lavoro in azienda. Si tratta del primo tassello del progetto scuola della prossima edizione della Barcolana, ha affermato il presidente della società velica Barcole Grignano, Mitia Gialluz. Ogni anno abbiamo la possibilità di garantire alle scuole sostegno economico, iniziative a vantaggio dei ragazzi e occasioni formative.